amici di live social buonasera ben ritrovati qui su radio lombardia la nostra notata insieme continua e continua con la compagnia del nostro prossimo ospite lui è giorgio terziani buonasera benvenuto buonasera buonasera a tutti allora giorgio tu sei consulente tecnico scientifico di epinutrasel giusto sì vogliamo spiegarci brevemente che cos'è epinutrasel poi andiamo sul nostro argomento core della serata no beh è un progetto rivoluzionario per quanto riguarda la prevenzione ok si tratta di epigenetica no epigenetica e quindi tutto ciò che si mangia si beve si respira e si pensa l'ambiente in cui viviamo sappiamo oggi sta condizionando moltissimo la nostra salute che cos'è l'epigenetica giorgio l'epigenetica è appunto quello che ci permette di modulare a livello ambiente ambientale di quello che si mangia si beve si pensa si respira quindi l'ambiente in cui viviamo dove lavoriamo che condiziona la nostra i nostri geni e quindi condiziona la nostra salute chiaro certo in che modo lo si fa cioè come funziona la cosa principale del nostro della nostra attività è quella di mappare quali sono i fattori che interferiscono sulla salute abbiamo un dispositivo che si chiama s drive ok della cell while bank e che ci permette di tramite il bulbo del capello di mappare quali sono i fattori specifici di questa persona ok noi sappiamo che i capelli sono un biomarker straordinario per capire la salute della persona e lo sappiamo perché possiamo fare per esempio l'esame dei capelli per valutare la tossicità dei metalli pesanti o possiamo fare l'esame dei capelli per valutare se una persona fa uso di sostanze stupefacenti e questo questo test ci permette proprio di capire quali sono le esigenze specifiche di quella persona quindi quando parliamo di esigenze parliamo di non so nutrizione e cos'altro assolutamente sì tu pensa che se noi mettiamo questo bulbo del capello sopra lo scanner di s drive lo scanner viene in dieci secondi fa la mappatura di quello che ha bisogno la persona e quindi valuta in maniera naturalmente preventiva predittiva non facciamo diagnosi ma valutiamo quelle che sono le carenze quindi vitamine minerali aminoacidi omega 3 ma soprattutto la cosa interessante è l'impatto ambientale noi sappiamo oggi l'ambiente condiziona in maniera notevole la salute delle persone quindi basta pensare all'area che respiriamo ormai si salvi chi può l'acqua contaminata i cibi sempre più contaminati noi con questo test permettiamo alle persone di capire quello che lo sta danneggiando e quindi fare prevenzione perché se tu eviti quello che ti danneggia fai prevenzione ma quindi nel dna è iscritto sostanzialmente che cosa da questo punto di vista allora cosa ci dice il dna ce lo dà la mamma e papà non possiamo assolutamente cambiare certo l'epigenetica invece è quello che sono quei fattori che modulano la nostra genetica quindi è un po che è un po come un modulatore della nostra salute accendi e spengi certi geni in base a quello che fai nella tua vita in base a quello che pensi in base a quello che mangi che respiri quindi noi possiamo scegliere scegliendo una vita sana e ormai è molto difficile in questo ambiente ma è sempre possibile comunque fare delle scelte consapevoli mangiare meglio respirare meglio dormire meglio e vivere in un ambiente migliore purtroppo le città non le possiamo cambiare quando è nata epi nutras il progetto epi nutras parte da da lontano da un'esperienza di 20 anni nel campo della nutraceutica e della prevenzione e due anni fa un viaggio in messico ho conosciuto questa azienda tedesca a un congresso mondiale di medicina anti aging ho scoperto questo test e di lì è nato tutto perché come si dice nulla accade se prima non si sogna questo era un sogno che avevo veramente nel cassetto perché mi mancava qualcosa di unire puntini a chiudere il cerchio quale di fare veramente prevenzione voi pensate ai padri e le madri prima del concepimento come dice uno dei più grandi esperti che abbiamo a livello internazionale che è Ernesto Burgio oppure un altro medico ricercatore professor Pier Mario Biava oppure il dottor Galimberti o ancora di più il professor Spaggiari nel campo della biofisica noi possiamo sapere e capire cosa fare per la prevenzione cosa possiamo fare incominciare a creare cultura sui padri e madri prima del concepimento e quindi genitori sani per avere bimbi sani questa è l'epigenetica e questo è il futuro per la prevenzione ma senti Giorgio come funziona a livello pratico rivolgersi a voi per fare diciamo questo percorso in questi ultimi due anni abbiamo aperto più di cento centri in Italia e quindi è possibile rivolgersi a noi per chiedere dove effettuare questo test epigenetico e quindi sono tutti centri medici e quindi avere la consulenza anche di un medico di di provata esperienza che è importante al di là della macchina avere la consulenza assolutamente sì assolutamente sì quindi avere un approccio anche responsabile competente è fondamentale perché la salute è una cosa seria e non possiamo andare in giro a raccontare storie certo e io vi consiglio allora di andare a fare un salto sul loro sito internet cell-wellbeing.com lì possiamo trovare non solo i vostri centri ma anche qualche informazione aggiuntiva eventualmente assolutamente sì ci sono tantissimi video dei vari congressi che abbiamo fatto chiudo dicendo che questo test è entrato in un progetto quella del della mappatura delle persone che vivono nelle terre contaminate basta pensare alla terra dei fuochi oppure basta pensare alla Lombardia a Brescia che una delle città più inquinate che abbiamo in Europa pensate e quindi capire quali sono quelle sostanze che stanno veramente danneggiando le persone parlando di video come dicevi prima cell well being italia lo troviamo anche su youtube no sì assolutamente sì con tutte le nostre conferenze e il razionale e la ricerca scientifica potete seguire giorgio su instagram come terziani giorgio su facebook invece come giorgio terziani c'è anche self food ossigeno per la vita un pass per il benessere e well being italia che sono due pagine facebook giusto assolutamente sì contattarvi si può fare al l'indirizzo mail epinutracialchiocciolagmail.com o al numero di telefono che il 335 6481 268 grazie giorgio io ringrazio te grazie a voi e ti auguro una buona serata piacere piacere nostro e ricordo ai nostri ascoltatori che la notte ancora giovane restate qui su radio lombardia in compagnia di live social che si prende un brevissimo break ma poi torna subito con una nuova intervista e un nuovo ospite